Mancano pochi giorni, quindi per chi guida l'automobile meglio attrezzarsi. Scatterà infatti dal 15 novembre l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali del Friuli Venezia Giulia, maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio. L'obbligo resterà in vigore fino al 15 aprile 2018. I tratti interessati al provvedimento, oltre alle strade montane della regione, sono la statale 14 della Venezia Giulia dal Bivio a Acca al Valico di Pese, il raccordo autostradale 13 a 4 Padriciano, dallo svincolo di Sistiana a quello di Padriciano stesso, il raccordo 14 dallo svincolo con il raccordo 13 al Valico di Fernetti, la statale 202 Triestina da Sandor Ligo della Valle a Cattinara e da Cattinara a Padriciano, la statale 55 dell'Isonzo, dall'innesto con la statale 14 a Sablici fino a Gorizia. L'ANAS raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web stradeanas.it, oppure tutti gli smartphone e i tablet possono andare ad aggiornarsi con l'applicazione Vai di ANAS. Disponibile anche il servizio clienti pronto ANAS, raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800 841 148.